Una parte della sua famiglia era partita dal Molise e delle sue origini molisane, lui parlava spesso. Se n'è andato Paul Sorvino, attore italo-americano, il boss di Brooklyn nel film di Martin Scorsese, quei bravi ragazzi. Aveva 83 anni, lo ha annunciato la moglie Didi dicendo che è deceduto per cause naturali. Aveva tre figli, uno di questi è la famosa attrice Mira Sorvino, che proprio lo scorso anno è venuta in Molise per visitare Santa Croce di Magliano e Casa Calenda, i paesi d'origine della sua famiglia. In queste immagini alcuni momenti della sua visita in regione, Mira Sorvino, premio Oscar, in quell'occasione aveva ricordato il legame con questi due comuni molisani, Santa Croce di Magliano e la terra della famiglia di mia nonna, Casa Calenda, il paese dove ha vissuto il mio bisnonno Antonio Renzi. Fino all'età di 12 anni aveva ricordato, ho amato ricollegarmi alle mie radici molisane ed ero sbalordita dalla bellezza del luogo, dalla gentilezza e dalla cultura della sua gente. Con oltre 160 tra film e titoli della tv, Paul Sorvino, nato a New York il 13 aprile 1990 da genitori italiani, ha recitato in film e fiction di grande successo. Prima di diventare attore, è stato cantante d'opera di formazione classica, fu anche un abile scultore, lavorando principalmente con il bronzo e creando modelli ispirati alle figure greche.